il sesto di settembre 1505 si accostò l'esercito alle mura con l'inizio del secondo millennio pisa è in una fase di grande espansione il nuovo lanificio del gruppo marzotto a pisa la cerimonia di inaugurazione alla presenza di sua maestà il re imperatore la chiesa di san zeno ha origini molto antiche lo stabilimento termale vive grazie a una sorta di doppio mondo luglio 1944 noi fidiamo ancora nella salvezza della piazza del duomo isa non sarà più indipendente le imponenti mura non serviranno più da difesa rimane la piazza dei miracoli